Filetto Rinascimentale, 5 giorni all'insegna di balli, musica e che altro? Filetto Rinascimentale quest'anno continua a stupire perché offrirà ancora un palinsesto molto più importante rispetto all'anno scorso. Avremo delle conferenze, avremo appunto anche la partecipazione della professoressa Enrica Salvatori direttamente dall'Università di Pisa. Avremo altri conferenzieri un po' da tutto il mondo sia della revocazione che della storia naturale e fino ad arrivare ad avere un illusionista sul palco principale e poi ovviamente musica, danze, musica con gli Invino Veritas, dei concerti il 14 e il 15 di agosto, musica itinerante con il gruppo di Recco e Prozopa per cui una serie di attività veramente diversificate che possono dare un impatto importante al pubblico che appunto interessa tutte le età. Chi volesse partecipare deve iscriversi? Dunque, chi vuole partecipare ovviamente c'è il sistema di biglietteria già messo in atto anche nelle edizioni precedenti. C'è una novità importante, ovvero abbiamo dato la possibilità di fare una pre-vendita online e con i nostri sistemi di comunicazione collegarsi direttamente al sito con un QR code che viene appunto mostrato in tutti i nostri sistemi comunicativi oppure attraverso il link che è sulla nostra pagina. Allora invitiamo tutti a partecipare. Assolutamente, è ovviamente un'edizione spettacolare che viene sostenuta innanzitutto dal comune di Villa Franca e Lunigiana, da Confcommercio di Massacarrara e La Spezia e da tutti i nostri sponsor e sostenitori che ci hanno dato una grande mano negli ultimi mesi. E la novità di quest'anno è che oltre a balli e manifestazioni ci sono anche degli eventi culturali, delle conferenze. Cinque conferenze, una per ogni giorno della manifestazione, alle 18.30 nel Chiostro del Convento. Comincerà in apertura Enrica Salvatori, professoressa di storia medievale presso l'Università di Pisa che ci presenterà il progetto Public History e Confini della Lunigiana. A seguire due presentazioni di libri, una del noto naturopata Marco Pardini, poi di Simona Bertocchi che ci presenterà un libro sulla Venere del Botticelli e poi, bellissime, Francesca Baldassari, presidente dell'Associazione Gilda Historiche che ci parlerà dell'abbigliamento femminile nel XV secolo e delle acconciature femminili nel Rinascimento.